Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1, per consentire attività di ispezione nelle gallerie stanotte e domani notte, in orario 26, sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico-Baccheraia e Roncobilaccio in direzione Bologna. Contestualmente resterà chiusa l'uscita di Roncobilaccio provenendo da Roma. Per la viabilità cittadina a Firenze alvia oggi la seconda fase della riqualificazione di Piazza Poggi, lato San Nicolò. Istituiti restringimenti di carreggiata e di vieti di sosta lato Lungarni e di vieti di transito lato Rampe. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!